Silvano Ferri, Presidente del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Prutino-Pescarese, parliamo ovviamente di olio extravergine e di oliva. Sono tanti i soci che hanno contribuito a questa DOP che è stata tra l'altro la prima in assoluto? Sì, sono tanti e ogni produttore, ogni frantoiano è portatore di una storia, di una tradizione nella continuità di un comparto olivicolo straordinario. Quando parliamo di olio e in particolare di olio DOP che coniuga in sé tre valori, quindi tipicità, cultiver autoctone, dritta, toccolano e leccino. La necessità che questo oliveto sia riconosciuto e certificato dalla comunità europea in quanto deve essere iscritto e poi c'è un organismo di controllo che certifica che quell'olio extravergine possa diventare DOP e quindi essere immesso sul mercato con il bollino del Consorzio di tutela. Ma questo non è una semplice operazione burocratica, ma è portatore di valori, di tradizioni e di qualità. Noi quando parliamo della DOP a Prudino Pescarese, al di là dei numeri che ci posiziona tra la quindicesima e sedicesima posizione in Italia sulle 43 DOP e le 7 IGP, su 50 quindi complessivamente, significa che noi abbiamo contribuito e dato anche l'opportunità ai produttori nell'applicare il disciplinare di produzione a fare qualità dell'olio e questo si vede spesso che abbiamo degli extravergine, bio, monovarietali, che sono di una natura e fattezza straordinarie, ma tutto questo dipende anche dall'acquisizione di una cultura, di una conoscenza e del rispetto delle pratiche agronomiche. Le voglio porre questo quesito perché anche in questa giornata abbiamo sentito fare riferimento ad uno dei problemi, diciamo, strutturati ancora nel rapporto tra consumatore e produttore ed è quello della qualità prezzo. Sicuramente, intanto noi dobbiamo fare un passaggio che è fondamentale. La qualità dell'olio DOP, extravergine, bio e monovarietale non può essere soltanto inteso come un parametro chimico-fisico o legato alla degustazione. L'olio acquisisce da un valore anche sociale, ha un valore straordinario perché lega un territorio alle sue tradizioni, alla cultura, dicerei quasi un concetto di antropologia della tipicità. Se non riusciamo a far passare questi valori in un consumatore, per fortuna assistiamo sempre di più a consumatori evoluti che vanno alla ricerca di prodotti di qualità e di eccellenza, non solo in Italia ma soprattutto all'estero, se riusciamo a far capire che una bottiglia di olio deve essere venduto e non è un modo di ricattare il consumatore, ma necessita di essere venduto a 12, 13, 15 euro, una DOP, 10 euro minimo, un extravergine e perché ci sono costi di produzione, necessità di assicurare una qualità e un'identità tipica di un olio al consumatore.